Musica Onlycrapsbeaches di quanti ragazzi Sono Mezzobossa e soprattutto nel quarto episodio Del mio live space pokemon verdefoglia Allora ragazzi c'è stato un piccolo Cambio di programma nel senso che Se io vi mostro la mia squadra adesso potete notare Che anzi la mia squadra e i miei due pokemon Potete notare che sono carichi di vita Vita al massimo come vi ricordavate Monkey era sfinito e Charme Ilion aveva molte mosse Quasi del tutto esaurite Cosa è successo? Oggi pomeriggio Stavo registrando questo quarto episodio solo che Mi ha chiamato un mio amico E mi sono talmente incazzato che quando Ho stoppato il video per poi riprenderlo Ho deciso di buttare via tutto quanto perché Ho registrato con Audacity la nostra chiamata Sì che dopo avrei perso tempo A togliere il pezzo della chiamata e tutto Era tutto il resto Durante il pezzo che ho registrato Prima della chiamata di mio amico Ho notato che sono stato molto in difficoltà nel monte luna E ne ho approfittato per tornare indietro A curarmi pokemon Me li sono anche un po' allenati Ho mandato manchi al 20 Charme al 24 E in più ho fatto una terza cosa che ho in mente Ma che non mi ricordo più Ho preso 10 repellenti Che penso di usare subito Però prima ammazziamo questo zubat Ok dai Sono tornato più carico di prima Quindi di sicuro verrà un episodio migliore Di quello che ho fatto oggi Ho messo il cilare in silenzioso Porta chiusa con annesso foglio Che ho scritto sto facendo un video Quindi non ci saranno rotture dei cosiddetti Ok Adesso vedo se usare il repellente Sì sì lo uso A parte che mi da tanta esperienza Se mi da tanta esperienza no Ehm 84 No in realtà è buon numero E poi non manca tanto Ok Oh crefeire è già il secondo che trovo Sì ne ho trovato un altro prima Allenandomi Robo la Manchi L'ho ucciso con un altrettanto colpo karatè Che ho appena usato Ok Mando manchi al 22 Comunque ragazzi Pensavo Ho guardato nel sito Di Pokémon Central Wiki Ho guardato Primeape e Hitmonlee Hitmonlee è molto più forte Intanto mi tengo Primeape Poi più avanti penso di prendermi Hitmonlee Voglio sapere cosa ne pensate voi Hitmonlee è molto più forte di Primeape Molte moscelotta Molto potenti Poca energia Non l'avevo imparata nell'altro video Nel quarto episodio che avevo fatto Lui qui c'è uno che Se lo battiamo ci da Uno è un fossile E qui mi ricordo che ero molto in difficoltà nel video ragazzi Appunto per veleno gas Che tra l'altro C'ha 70% di probabilità Ma funziona Ha funzionato sempre ragazzi Sempre ha funzionato E io adesso mi sono sbagliato Eh vabbè dai mettiamo Cermilio Intanto non lo fa fuori sto Voltorm Di sicuro Bracere E Sono a posto Perfetto Sì Allora un attimo Chiuso Antidoto Sì ho sbagliato scusate E anche una pozione Comunque noi ci prendiamo Il Domo Fossile Che è quello di Kabuto Che è il più forte Kabuto Di Omestar Ah sì non l'avevo usato Beh colpo basso dai Ci rifacciamo dell'esperienza Che ci ha rubato Cermandel E sto prestando tiri Eh Ancora Cristo Sono raffreddato Scusate ragazzi Scusate ancora Antidoto Ecco mi ricordo C'era un altro qui E ora siamo usciti Dopo sta scala Sì me lo ricordo Ok dai Allora Io direi adesso Di Fare insegnare Mega pugno Ho fatto a Cermilion Mega pugno Al posto di Graffio E mega calcio Al posto di Ehm Muro di fumo Ok Perfetto Ah Che culo Poi qui non mi ricordo Che Pokémon servetti ci sono Ah sì c'erano dei 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 Sand Shrive Abbastanza forti Che ti davano un buon numero di esperienza Vediamo se Ecco ma al 6 No ne avevo trovati almeno al Al 10 Se non mi sbaglio Anche il 7 Ti danno tanta esperienza Ecco vedete Tipo con quel po' karate Io non l'ammazzo Mi serve un Graffio Madonna Mando a sto punto Al 22 Il mio Inno Mankey Che non ho neanche guardato Creole si evolve in Prime Mi dimentico sempre Vuole dire che sarà Una surprise Ok Dovrebbero No non basta Di sicuro Eh infatti Ehm Servirà questo Spearov Ok Quindi Abbiamo una squadra Di due Pokémon Finora Curiamoceli Tutti e due Vediamo L'esperienza Che hanno Allora 10.600 Ok Tocca Charminion Adesso Andiamo a battere Seconda palestra Raga Naturalmente Battiamo tutti I allenatori Come è ovvio Faccio sempre Mega Pugno Stronzo Figlie Puttana Sheldr Vegati sto Mega Calcio Ancora vivo Ok E battiamo lei Forse non è stata Una buona idea Insegnare Mega Calcio Mega Pugno No beh Dobbiamo curarcelo Lo stesso Perché ci servirà La squadra Più in forma Possibile Beh la squadra I Pokémon Più in forma Possibile Ok Tra l'altro Ho la Ciotomba Da insegnare A qualcuno Ma non ho idea A chi Cioè Ma anche I volendo Io aspetterei Quasi quasi Oh Uno è andato Oh perfetto Ah di sicuro Me lo butta giù Madonna Madonna Che bomba Di brutto colpo Raga E dammi anche Idropulsar Madonna Che culo Raga Ho di sicuro Venuto un episodio Migliore dell'altro Quindi Non mi la Ah si c'è il rivale Qui Ma aspettate Io Vai Cerminio Dai Cosa c'hai Quattro Pokémon No problem Non ho paura di te Stronzo E uno Pardon E uno è andato Squirtle Il titolare Il più forte Di tutti Vedrai come te lo butto giù Ok Io direi di fare un cambio No beh Con Proviamo Avrà solo teletrasporto No impossibile Ah Rattata Il più forte di tutti Ok Perfetto Penso di chiamare questo video Ah si cos'è che mi dava Il Poké Ma che cazzo è Vaffanculo Comunque Di sicuro Chiamerò questo video Su un altro Seconda medaglia No E altra lotta Con il rivale Ci saranno ancora di lotte Con i rivali Quindi Battiamo un po' i Dei allenatori Qui Così che manchi Scelgo te Ok Mamma mia Poi la merdata Della merdata Abbiamo qua Che tra l'altro Mi ricordo Raga Qui in questo Gioco Pokémon C'è uno strumento Che proprio Utilizzavo Proprio Il cerca sfide Voi non avete immaginato Voi non immaginate Quante volte ho usato Su un gioco originale Il cerca sfide Quante volte L'ho usato Su certi Allenatori Per allenarmi Pokémon Proprio L'ho usato Tipo una Cinquecento Volte No dai Fanculo No Non farmi tutti Gra Eh Odish Non userò Di erba Questa volta Sull'avventura No 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 Fallire Bravo Bene Sprout Eccolo qui Cercherò di catturarlo adesso Oh Bene It's good for me Ok Sentrive No Sentry Insomma Ognuno C'ha le sue pronunce No Che stronzo Eccens Eh Aiep Potenza E qui sono No Ok Pensavo si avvelenasse Sì Sì è il numero 4 Nidoran Uh E Nidoran Femmina No Quanto è che sono vicino alla città Eh vabbè Ho fatto una Cazzata Andiamo a curarci Via Ok Ok Curami tutti Pokémon Bella mia Oh Via Ok Mi polverizzerai Sì sì Monkey contro Monkey Chi vincerà Monkey Dammi la pepita Grazie Ok Ma lui Ci dà la pepita Poi ci sfida Team Rocket Trovo inutile E uno è andato Zubat Mmh Sangui sfugga Succiami tutto Ok Ma andiamo anche al 24 Sull'erba Caterpie qua Mi pare un po' strano Ah no All'ora è normale Ok Metapod Ma io Eh sì Non so dove si trova Bellsprout Sfido lui No Ma iper Ah è super zanna Quella che tenza la vita Ok Dammi quella Sfera Cos'è Attrazione Vaffan brodo Qui abbiamo un botto Di allenatori E qui PJ A me serve il Doduo Ah uno Un mio amico Uno che mi segue Ma ormai Considero un amico Mi ha detto che Mi ha ricordato Che Charizard impara a volo Ma lo stesso Voglio un Pokémon volante Oh Ha tutti gli effetti Aspettate Qua dobbiamo fare Una roba strategica Ecco qua Andiamo di Ok L'ultima Sì Seconda medaglia E Bellsprout Vai Bellsprout Vuoi diventare Il mio amico Mi sento solo Vieni da me Natura Uh Stiamo natura Per l'attacco È per l'attacco Bellsprout Gentile Aumenta una difesa Non importa dai Non sempre Si può tenere Tutto dalla vita Ok Il resto Abbiamo ben Sperato Da allenare Solo che Sarà un po' difficile Visto che C'è solo Mossa Erba Quindi Abbiamo il terzo Pokémon di squadra Raga Ne mancano tre Manca acqua Elettro E volante Anche se Vabbè Charizard impara a volo Però Solo muovo a volo Tacco d'ala Anche impara A tutti gli effetti Oh Perfetto Non credo di meglio Ma ce la farà? Ma certo Potrei usare Cerca sfide Per allenare lui Ma certo È vero Potrei usare Cerca sfide Per allenare Solo che Adesso devo fare così Torniamo Perché proprio Me l'ha ammazzato Con un sassata Ok Immaginate Andare a fare Su giù Sì ma comunque Penso che Gli episodi di verde foglia Usciranno Non più Uno un giorno Cioè Ah non l'avevo allenato Non l'avevo battuto lui Ops Anche pig fail Aia Se tipo faccio frustata Aia Ah bene dai Non male Aia stronzo Gio dude Yes Bella zio Zornifero Potrei usarla Ma anche no E lui Rattata Frustata è molto buona Come mossa Se tipo io uso La pozione Che tra Brutto stronzo Ma sì Ti faccio anche io Il cambio adesso Sì dicevo Gli episodi Non usciranno più Con Come zaffiro Che qua Che là Sapevo come Allenarmi i pokemon Qui invece Ogni volta Uso il cerca sfide Per allenarmi Nooo Merda Ero convinto Di riuscire a A Come si diceva A contenere il danno Vabbè non importa Dai Mi allenerò C'era Bella Sprout Come Con i cerca sfide Con questi due Scopperi rovine Per il tanto Andiamo a sconfiggere Gli ultimi allenatori Qui avrei potuto Sì usare Beh Sprout Tipo acqua Slowpoke Vabbè dai Non importa Comunque Altri due allenatori Poi stoppo il video Perché sto per E' 15 minuti E Charmino E' già al 27 Quasi Non male Ecco Anche lui Potrei battere Sì Questo è l'ultimo allenatore Che batterò raga Qui sotto luce Ok Siamo a 14 minuti Adesso Quasi Non ho conto Gli intro Ragazzi Lo sapete già E matchup In bellezza No Ma sapevo che lo no Ero sicuro Anche adesso Normale Vabbè dai ragazzi Grazie allora per questo video è tutto E ci vediamo al prossimo video Ricordate di passare Da mia pagina Facebook Come al solito Esce in descrizione Ciao